Al Consiglio Comunale del 7 giugno assenti tutto il gruppo del centrodestra. Alla base di questa non partecipazione al Consiglio il mancato accoglimento di ritirare la delibera di Consiglio e di Giunta che fa riferimento al protocollo d'intesa per la creazione del Parco archeologico di Muro Tenente. I consiglieri del centrodestra hanno inviato al Presidente del Consiglio una lettera dove sono state spiegate le loro posizioni. Consigliere Franco, un'assenza quella di oggi di tutta l'opposizione al Consiglio Comunale, un atto che forse deve essere visto in prospettiva di un confronto. Qual è la sua opinione in merito? Noi siamo intervenuti già in Consiglio Comunale, quindi pubblicamente, facendo appello all'opposizione a rivedere la sua posizione. Una posizione che è spropositata, non è motivata con una inagibilità democratica del Consiglio Comunale. Ci mancherebbe. Di fronte a una inagibilità democratica del Consiglio Comunale, noi saremmo i primi a contestare le situazioni. Non siamo assolutamente a questo livello, anzi il centro-sinistra è disponibilissimo a prendere in considerazione tutte le proposte che l'opposizione vorrà fare in merito agli argomenti da discutere in Consiglio Comunale. E se poi su questa vicenda del parco archeologico ritiene che ci siano stati degli errori, aveva senz'altro la possibilità sia in Commissione, dove io sono stato personalmente presente, che in Consiglio Comunale di fare gli emendamenti. Emendamenti che non sono venuti. Noi non vogliamo assolutamente insegnare all'opposizione come debba fare l'opposizione. Siamo talmente umili da pensare che ognuno di noi ha cose da imparare. Noi ne abbiamo tanti da imparare. Però l'opposizione dovrebbe rendersi conto che assolve davvero la sua funzione se è in calza nel merito delle questioni. Se invece si tira fuori cercando di far credere che siamo in presenza di una dittatura, siamo in presenza di violazione delle leggi e così non è, qui veramente tutti indulgiamo la politica fatta come spettacolo e questo non fa assolutamente bene a nessuno. Soprattutto non serve alla città e quindi voglio concludere ancora una volta facendo appello ai consiglieri di opposizione a rivedere la loro decisione perché è una decisione che non è giustificata.